Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a questa ennesima sconfitta Non figura di merda stavolta, semplicemente sconfitta Il Milan perde 1-0 a Torino contro la Juventus Grandissimo gol di Dybala che sblocca la partita un quarto d'ora dalla fine Ma il Milan, possiamo dirlo, per quel cazzo che me ne frega e per quel cazzo che vale Esce a testa alta, così dobbiamo dire Ma è anche corretto, secondo me, dirlo Perché, ragazzi, parliamoci chiaro La formazione messa in campo questa sera aveva un tasso tecnico, secondo me, osceno A dir poco imbarazzante E tutto sommato questa squadra ha tenuto botta per 90 minuti Giocando anche un buon primo tempo Quindi, comunque, la differenza di livello è talmente abissale che secondo me il Milan ha fatto il suo Cioè, ha creato quelle tre, quattro occasioni nel primo tempo Ha avuto qualche palla nel finale Però, ragazzi, i giocatori sono scarsi Quindi, di conseguenza, non siamo ancora in grado di sfruttare gli errori degli avversari La Juventus questa sera non ha fatto una partita indimenticabile Non ha fatto una partita fantastica Ma dei giocatori che sono 27.000 volte più forti dei nostri Di conseguenza va a finire questo Di conseguenza è questo quello che conta Che devo dire? Prendiamo qualcosa di positivo Qualcosa di positivo Allora, non è stata fatta una figura di merda Che è già comunque qualcosa di importante La squadra tutto sommato ha retto per 90 minuti Nonostante comunque gli errori ci siano sempre Siano comunque tanti Che devo fare? Devo provare a trovare delle chiavi positive Diciamo delle chiavi di lettura positive in questa partita Io continuo a ripetere quello che ho già detto Questa squadra ha un allenatore scarso Una squadra scarsa Dei giocatori scarsi E per me questa è una stagione già finita Compromessa a novembre Di conseguenza meglio giocare con una formazione del genere Meglio giocare con una formazione che pur essendo composta da gente scarsa Comunque ti crea qualcosa Fa vedere qualcosa E quantomeno provi a scoprire Quei giocatori un filino più interessanti Hernandez l'abbiamo scoperto già da mo Benazera secondo me ha fatto una gran bella partita Anche Conti devo ammettere che Probabilmente ha fatto la miglior partita Della sua vita C'è da quando ovesse la maglia del Milan Quindi al massimo se vogliamo qualche indicazione positiva Possiamo anche trovarla Per il resto ragazzi L'attacco è quello Pionte che sta vivendo proprio un'involuzione preoccupante Susa e Celanoglu sono sempre quelli Paquetà è bravo Ma ancora non riesce a incidere per quanto dovrebbe Krunic fa quello che può Però quantomeno Rodriguez e non lo vediamo più Se Dio vuole Biglia e non lo vediamo più Se Dio vuole Anche se alla prossima Benazera è squalificato Quindi biglia Ahimè col Napoli Ce lo dovremo Sorbire Che sì Fortunatamente ha deciso di autoescludersi Con la sua testa da genio E che dire Sorrido perché Ragazzi Non lo so Sorrido perché C'è qualcosa di positivo Probabilmente magari possiamo iniziare a guardare Con un minimo di fiducia in più No Per me ce ne è sento Sì possiamo anche dirlo Però niente Questa è la partita Vista da me Ragazzi Questo video post gara finisce qui Per me c'è poco da dire Complimenti alla Juventus Complimenti alla fine Non è che hanno giocato granché Complimenti a Di Bala Che essendo un grandissimo giocatore Si è inventato un gol Fantastico E niente Questo Buona serata a tutti E sempre forza Milan In attesa Di tempi migliori Ancora Per l'ennesimo anno Per l'ennesima volta Che noia Non ho più neanche la forza di incazzarmi Con questi sfoghi Per l'ennesima volta